A Banca e Sicurezza 2013, Protect ha fatto sperimentare a tutti l'efficacia del suo nebbiogeno antifurto di sicurezza. Come funziona e quali sono i vantaggi rispetto ad altri sistemi? La ringrazio intanto perché mi dà l'opportunità di poter spiegare in questo ambiente, in questo ambito, per la prima volta al mondo bancario, l'efficacia e la straordinaria efficacia del sistema nebbiogeno Protect. Il nostro è un sistema nebbiogeno che ha avuto moltissime applicazioni in varie possibili situazioni di mercato, in ambienti privati prima, poi in ambienti commerciali e adesso siamo approdati alle banche perché abbiamo messo a punto delle applicazioni che sono in grado di garantire, veramente garantire la sicurezza che le banche si aspettano da un sistema così performante. Il sistema nebbiogeno funziona attraverso l'erogazione di una nebbia assolutamente impenetrabile che in pochi secondi rende assolutamente invisibile qualsiasi oggetto all'interno di un ambiente e quindi pertanto questa sua efficacia è in grado di intervenire prontamente in qualsiasi tipo di azione criminale, criminosa che possa avvenire nei confronti di una banca, di un sportello. Utilizza acqua denaturata e glicole alimentare, quindi è assolutamente atossica e non lascia nessun residuo. Quindi è un strumento che è stato accertato e certificato in modo che possa essere utilizzato abitualmente da qualsiasi istituto. Per quali ambienti della banca voi pensate che sia utile applicarlo? Abbiamo molte esperienze in questo senso all'estero e in Italia utilizzando il nostro sistema nebbiogeno Protect all'interno a protezione degli ATM e quindi in modo che gli ATM in caso di attacco possano essere in grado di difendere il contenuto degli ATM stessi e anche all'interno le RSF dove oggi c'è una particolare attenzione nel attaccare i cash-in cash-out e quindi noi siamo in grado di mettere in sicurezza sia la zona ATM che la zona cash-in cash-out. Avete dei risultati che dimostrano l'efficacia del vostro sistema applicato a una banca? Sì, effettivamente abbiamo dei risultati eclatanti. Abbiamo un esempio che ci inorgoglisce particolarmente che un importante istituto bancario italiano ci ha affidato la sicurezza dei loro ATM. Nell'anno 2011 abbiamo realizzato la totale messa in sicurezza di tutte le loro 400 filiali e abbiamo portato un grandissimo risultato facendo che gli attacchi agli ATM del 2011 che erano nel numero di 45 sono stati praticamente azzerati e nel 2012 si sono realizzate solo 5 attacchi ai loro Bancomat e con un esito peraltro estremamente favorevole in quanto tutti e 5 gli attacchi hanno portato un successo senza assolutamente nessuna asportazione di moneta e di danaro. Il vostro sistema nebbiogeno può essere pericoloso per il personale o per i clienti? No, assolutamente no. Il nostro sistema agisce attraverso una erogazione senza pressione di questa nebbia che si eroga all'interno di un ambiente ed è una nebbia costituita da acqua denaturata e glicola alimentare che ovviamente ha una certificazione che dichiara che è assolutamente atossica ed è ininfluente sull'ambiente e sulle cose. E negli altri settori in cui è applicato quali risultati avete ottenuto? Beh questo è straordinario perché sicuramente il mondo bancario è il mondo che ha fino adesso dimostrato maggiori resistenze in funzione della difficoltà di applicazione di questi sistemi. Il nostro sistema ovviamente ha superato queste resistenze ma al di fuori dell'ambito bancario abbiamo innumerevoli risultati straordinari in applicazioni su situazioni commerciali tipo tabaccherie, ottici, farmacie dove il risultato è eclatante. Anche qui abbiamo portato una statistica che su 5.000 installazioni effettuate nel mondo ogni mese abbiamo un risultato del 98% di furti sventati grazie al sistema Protect. Ha detto del mondo, quindi in quali paesi siete operativi? Beh siamo operativi in 48 paesi al mondo e appunto con 5.000 installazioni al mese rappresentiamo sicuramente la realtà di azienda che produce sistemi antifurto nebbiogeni nel mondo come leader assoluta e incontrastata.